Cosa vuoi ricevere ragazzi? Anche tu per ricevere 5 sentite per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu una skin gratis Beh raga dovete andare esattamente in questo momento qui sotto nei commenti perché sono andato a lasciare un codice skin Quindi voi andate nei commenti, vedete questo codice skin, trovate il foglio di riscattacodici su internet E così potete riscattare il codice per una skin gratis Cosa non sei riuscire a prendere la skin gratis? E voi comunque ricevere qualcosa da parte mia? Quindi vammi a lasciare il video di qui sotto nei commenti Se andrò a fare un regalo ad uno di voi che ha lasciato il proprio video di qui sotto nei commenti Mi raccomando codice codinggamer 5, 2, 3, 2 Quindi vai a riscattare questo codice e lasciami il video di ciò, un applauso io, lascio il like, bye